Giorgia Palmas è un sogno per pochi, lato B in mostra e non solo. L'ex Velina è un concentrato di bellezza, davvero da urlo Giorgia Palmas ha una grandissima carriera alle spalle nel mondo dello spettacolo, dove si è imposta sicuramente col suo talento e la sua bellezza, prima come microfonina di Buona Domenica, poi come Velina Mora di Strescia La Notizia, al fianco di Elena Barolo, ha conquistato tutti col suo fascino L'ex Velina è un sogno, lato B in mostra e non solo foto, ecco la foto che lascia tutti senza parole, Instagram Giorgia Palmas Sempre molto attiva sui social, la Palmas ha davvero infiammato il web con uno scatto che la mostra elegantissima, lato B in mostra e non solo, un concentrato di sensualità Giorgia Palmas è un sogno per pochi, lato B in mostra e non solo, ecco l'ex Velina classe 82 originaria di Cagliari, la Palmas si sta davvero godendo un periodo d'oro, specie dopo il matrimonio con Filippi Magnini, impegnata come influencer, testimoniale e in tv, continua ad essere sempre molto amata dal pubblico Passata l'estate, la showgirl è tornata a mostrarsi sui social più bella che mai, riposto il bikini nell'armadio, la Palmas si è fatta immortalare con un outfit davvero elegante, che esalta la sua silhouette e i sui lineamenti Come si vede sul nuovo post sul suo profilo Instagram, vediamo la Palmas sorridente sulle scale con tanto di tacchi dorati, girata di profilo, le gambe sono in primo piano così come il suo lato B scolpito Elegante e sensuale, la showgirl è un sogno con l'outfit, foto, Instagram Giorgia Palmas Con il passo giusto scarpa con il tacco scrive Giorgia nella divascalia della foto, che mette in mostra tutta la sua grazia e la sua sensualità, radiosa più che mai, sembra essere entrata in una fase di vita davvero stupenda Il post è stato subito riempito di mi piace da parte dei follower, che si sono complimentati a migliaia per la bellezza dell'ex belina, sei bellissima e vesti sempre molto bene Faccina con occhi a cuore Faccina con occhi a cuore Scrive un fan, con tanti che oltre che per la sua bellezza si complimentano anche per l'outfit indossato Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao